vanitas, vanitatum et omnia vanitas. Ecco, beh, la vicenda di Berlusconi, Silvio Berlusconi, ci mette in evidenza questo motto che troviamo nella Bibbia, che è il memento mori, ma per vanitas si intende in arte, in pittura, anche la natura morta, cioè quella, per esempio, la cesta anche di Caravaggio, dove c'è della frutta, per esempio. La frutta è facile alla putrescenza, ecco, la mela in particolare è un frutto che viene spesso associato al male o anche a un certo tipo di male malvagio, come il peccato, come il cedimento al peccato. La vanitas ci viene, oppure ci sono altre forme, altri simboli che possono parlarci di questo, cioè il teschio, la candela spenta, anche la bolla di sapone, cioè quello che è la caducità, il tempo breve, l'effimero che tutti noi umani inesorabilmente viviamo. Quindi abbiamo un tempo di nascita, una vita e poi una morte. E questa morte che tutti noi attende è inesorabile, ma non ce ne rendiamo conto. Io conosco dei novantenni che fanno progetti per il futuro. La vanitas, nel caso di Silvio Berlusconi, ci fa venire in mente quanto sia a volte inutile dannarsi l'anima per l'accumulo. Si dice che lui avesse un patrimonio di 9 miliardi e 6. Ecco, 9 miliardi e 6. Che cosa se ne fa ora? Nulla, nulla, perché anche lui è disposto nelle ultime volontà di essere cenere. Quindi anche qui c'è un altro motto, no? Polvere, polvere ritornerai. Nel mercoledì delle ceneri, mercoledì delle ceneri, un tempo ci mettevano un po' di cenere sul capo per ricordarci. Il memento mori, cioè ricordati che devi morire. Ma la vanitas e ciò che è vano, ciò che è inutile, lo si vede soprattutto per i grandi ricchi, che poi nella tomba non portano nulla di quello che in vita hanno posseduto e di cui si sono tanto vantati oppure hanno discriminato, hanno fatto atti anche magari del crimine pur di ottenere quella montagna di ricchezza di cui non se ne faranno nulla. Sapete qual è il guasto? Il guasto sono i figli. I figli sono un guasto perché questi vecchi ricchissimi purtroppo se ne vanno via con una specie di strana consolazione, una specie di strana consolazione per la quale sì va bene io muoio, non mi porto niente nella bara, ma avranno quella ricchezza i miei figli. Ed è questa la base di tutte le guerre. Perché il problema dell'egoismo filiale, per cui si fanno anche i figli, in gran parte dei casi i figli non nascono per amore ma per una necessità di censo. Tanto è vero che le famiglie di un tempo si disperavano perché non nascevano figli maschi. Difatti si diceva agli sposi auguri e figli maschi, perché i maschi un tempo ereditavano. Quindi la Vanitas ci fa capire quanto sia inutile la corsa, la gara al potere, alla ricchezza, quando poi non rimane nulla di quel potere e di quella ricchezza. L'unica cosa che può essere utile, come diceva il buon Foscolo, mi pare anche Manzoni, che facendo opere di bene, opere gloriose, un po' l'adannunzio, poi c'è un momento storico glorioso, cioè si viene ricordati per l'atto di eroismo. Francesco Baracca verrà ricordato per sempre perché fu in fondo uno dei rari kamikaze del suolo italico. Quindi, diciamo, se ci si accontenta dei sepolcri, allora può andare bene, ma in linea di massimo poi i popoli comunque dimenticano. E soprattutto quelli, ho notato per esperienza, che quelli molto glorificati in vita, poi dopo la morte diventano olvere anche per quanto riguarda il memento, cioè la loro memoria. E quindi il Promortis Causa finisce con loro. Ne cito uno a caso, Umberto Eco, Umberto Eco che tanto si vantava in vita di essere lui intelligente fra un mondo di cretini e di imbecilli e credeva e in vita fu eccessivamente glorificato, oggi francamente. Se non qualche letterato e qualcuno dell'intelligenza di sinistra, ma chi è che lo ricorda più? Vanitas. M Grazie.